Ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati nel mio nuovo video. Allora oggi, come reggete dal titolo, vi porto la mia top 3 dei film che mi hanno più colpito nel periodo dell'infanzia e dell'adolescenza, perché diciamo sono un po' i miei film del cuore. Mi hanno tanto impressionato, mi hanno trasmesso delle emozioni, mi hanno fatto emozionare insomma. Allora, ecco qui la mia top 3. Al terzo posto, Un'estate in Provenza. Ho scelto di mettere questo film perché trovo che trasmetta tanti messaggi in un'unica pellicola e consiglio a tutti di vederlo perché secondo me vale tanto la pena vederlo. Quindi andatelo a recuperare se non l'avete visto. Al secondo posto ho scelto di mettere Breaktown, un film, anche questo di vari anni fa, ha fatto tanto parte della mia adolescenza, l'ho visto più volte, come l'altro film che vi ho detto. Secondo me è un altro film da non perdere perché trasmette tanti messaggi particolari e nel periodo dell'adolescenza è molto indicato, secondo me. L'ultimo film che mi sento di consigliarvi perché mi ha fatto parte della mia, in questo caso, infanzia è La fabbrica di cioccolato. Un po' tutti i bambini del mondo hanno visto questo film, ma a me ha veramente tanto tanto colpito, ha fatto parte di tutta la mia infanzia, l'ho visto forse dieci volte, perché è il film che più ha segnato la mia infanzia e più mi è piaciuto durante l'infanzia. Niente ragazzi, questo era il mio mini video. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!